www.feyyaz.tv Vireco è l'acronimo di Vapor Injection Refrigerating Compressor, ossia compressore alternativo con iniezioni di vapore. E in effetti il cuore del progetto Vireco è lo sviluppo di un innovativo compressore per gli impianti frigoriferi. Le iniezioni di vapore aumentano l'efficienza del compressore e questo si traduce in un risparmio di energia elettrica che varia tra il 5 e il 15%. Ciò diventa particolarmente importante se teniamo in considerazione che il 18% dell'energia prodotta nel mondo viene utilizzata per gli impianti frigoriferi. Circa tre anni fa, conclusa l'analisi teorica ed ottenuti due brevetti a livello mondiale, sono iniziate le attività sperimentali ed Angelo Antoni ha coordinato una rete di impresa in cui hanno fatto parte le società Fratelli Canalicchio e FriSoft Entec. Le attività svolte per la realizzazione del compressore frigorifero prototipo e di test sperimentali condotti hanno permesso di confermare la fattibilità e la validità tecnica del concept teorico alla base del progetto. Basilar è stato lo studio fluidodinamico all'interno dei condotti di iniezione e nei cilindri del compressore, grazie all'impiego di competenze e software all'avanguardia. Il banco di test sperimentale si è dimostrato uno strumento indispensabile per la valutazione dell'incremento prestazionale rispetto ad unità frigorifere convenzionali. Il guadagno riscontrato in termini di coefficiente di prestazione varia dal 3 al 10% in funzione del livello di temperatura richiesto dall'utenza da refrigerare. Tali valori di saving energetico sono già ottimi se valutiamo il loro impatto in valore assoluto, ma risultano ancora più promettenti se consideriamo che superano la metà del guadagno teorico calcolato, offrendo margini di miglioramento e spazio per uno studio più approfondito di ottimizzazione, attività questa già in progress. Questa fase del progetto ha dato evidenza dei benefici ottenibili ed ha aperto la strada che dovrà portare alla commercializzazione di un rivoluzionario prodotto per la refrigerazione. Grazie. 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 Grazie.